Fedez è stato ricoverato d'urgenza, nuovo malore per Fedez, trasportato in bollino rosso. Vi voglio mostrare le ultime storie di Fedez prima del ricovero, ancora non si sa, se non appunto condizioni abbastanza gravi, se appunto sia cosciente o meno, ma io vi mostro subito le sue ultime storie. Guarda già l'entrata del Damante che non fa un tuffo normale il Damante, il Damante quando si tuffa va sott'acqua e ti fa 40 metri sott'acqua per poi sbucare e approvare sulla sua tavola. Andrea Damante è stato costruito per fare il figo su queste cose qua, cioè proprio quando l'hanno creato. Noi sportivi! Grazie a tutti! Grazie a tutti